L'aumento dei contagi da Covid delle ultime settimane impone una riorganizzazione dei percorsi ospedalieri delle quattro ASL e dell'assistenza territoriale, dal primo luglio in carico alle UCAT che hanno sostituito le USCA. I temi sono stati affrontati a un tavolo tecnico che l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì ha convocato nei giorni scorsi con i vertici delle quattro ASL e i referenti della gestione dell'emergenza sanitaria. Alla riunione ha preso parte anche Franco Marinangeli, responsabile regionale dell'emergenza sanitaria. L'Abruzzo in questo momento è a rischio moderato, non è a rischio elevato per contagi Covid e quindi anche per pressione sulle strutture sanitarie, però è altrettanto evidente che la curva va incrementando in maniera esponenziale e quindi abbiamo fatto una riunione per precedere, diciamo così, il virus e per fare in modo di riorganizzare, rimodulare le attività degli ospedali per far fronti a eventuali pressioni sui nostri pronto soccorsi. Come saranno dunque rimodulate le attività degli ospedali? L'attività dovrà essere rimodulata in maniera tale da non creare problemi sui pazienti non Covid. Questa è la differenza rispetto alle ondate precedenti. In passato, come sappiamo, a fare le spese del Covid sono stati pazienti non affetti da Covid. Oggi abbiamo anche una popolazione diversa, abbiamo una popolazione vaccinata nella maggior parte dei casi, una popolazione quindi abbastanza protetta e abbiamo moltissimi pazienti Covid che non sono ricoverati per Covid ma che sono pazienti con altre patologie e che però purtroppo sono stati contagiati dal Covid. Quindi è uno scenario diverso rispetto al passato in cui quello che si è ribadito è la necessità di dare garanzia alle altre patologie e nello stesso tempo gestire ovviamente anche la problematica Covid che ripeto però è una problematica dal punto di vista patologico molto meno critica rispetto al passato. Prima vedevamo maggior parte dei casi polmoidità Covid, oggi vediamo pazienti con altre patologie che magari fanno il controllo in pronto soccorso in momenti in cui entrano e risultano positivi. Ecco sono situazioni completamente diverse quindi era importante fare il punto. Quindi in qual caso cosa si fa? Cioè la persona che viene in ospedale si deve fare comunque una visita, un controllo e viene trovata positiva cosa fa? Viene intanto gestita per la patologia per cui è arrivata quindi anche se il Covid non è patologia prevalente ma è una come dire una evidenza del momento comunque il paziente deve essere curato e quindi gli ospedali devono avere aree specifiche per gestire questi pazienti evitando di contagiare altri. Quindi questo è il punto essenziale, rivedere l'organizzazione interna delle strutture ma non solo le strutture anche dei percorsi all'interno delle ASL perché abbiamo ribadito il concetto che ogni ASL ovviamente deve avere la sua autonomia, nell'ambito della sua autonomia organizzare le sue attività e avere una certa capienza per i Covid e soltanto nel momento in cui si supera quella capienza ovviamente si attiva un meccanismo di compensazioni tra ASL. Quindi anche in funzione del prossimo autunno in sostanza si cerca di ricominciare senza doversi fermare più? In realtà il problema è questo che noi aspettavamo questa ondata in autunno invece è stata molto anticipata e quindi speriamo che in autunno a questo punto di vedere la coda di questa ondata e non di vederne un'altra o l'incremento di questa con nuove varianti. Fondamentale è continuare la campagna vaccinale, abbiamo visto che questo vaccino funziona quindi non c'è nessun motivo per aspettare l'autunno per vaccinarsi, anzi è opportuno anticipare, è opportuno farle nel momento giusto le vaccinazioni specialmente sui pazienti fragili.